oggi abbiamo un'altra maniglietta per questa volta per l'iphone 4 e 4s ma anche per l'ipod versione 4 questa è la scatola e questa è la maniglietta un po c'è l'attacco diverso dal 5 in fila così eccoci qua ha la sua applicazione ed è comoda da tenere così come quell'altra solo che forse è anche più comoda ci sono due bottoni uno per le foto e l'altro per il video contenti alla prossima